Test di avvio Windows 8.1 Pro 64 bit con installazione pulita, ossia formatazione delle due partizioni, sia la principale che la riservata per il sistema, e poi installato il sistema ex novo, fatto direttamente dalla procedura di boot, senza averlo fatto con il sistema precedente in funzione. Quindi installato da boot con il disco SSD, formatato e vuoto. Adesso vi mostro un avvio del sistema operativo con installazione pulita e installati solo i driver necessari al funzionamento del sistema, per avere tutte le periferiche riconosciute correttamente. Non vi sono ancora applicazioni di nessun genere installate sul computer. Quindi Windows 8.1 pulito. Uh! Uh! Grazie. Io continuo a dire che secondo me il boot rimane lento, cioè adesso ci è collegato anche l'hard disk esterno usb farà una prova di avvio anche staccando il disco. Adesso intanto vi mostro lo spegnimento sempre con periferica usb connessa e anche oltre l'hard disk esterno un hub usb 3.0 7 porte. Diciamo che come spegnimento ci siamo, adesso verifichiamo ancora l'avvio. Rieccoci, periferiche esterne ora sono disconnesse, quindi solo il boot. Ah scusate, mi ero dimenticato il cd di instruzione inserito. Ristoppo il video e riprendo una volta che ho tolto il supporto. Grazie. Grazie.